Ciao ragazzi sono dentro, la musica è alta, vi leggo la formazione Forza Milan, mi raccomando, testa, cuore, tutto su campo Da questo momento parte la live che troverete domani verso le 11.30 a mezzogiorno Forza Milan Forza Milan assist mostruoso di Charles GDK de Cattelan Nooo Nooo Tu sei la brava Nooo 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 Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Quando vi dissi un po' di tempo fa ne vedremo delle belle, non posso che confermare, ne vedremo veramente delle belle. Ciao ragazzi, buonanotte, buonanotte da vostro bandito rossonero, forza Mila, sempre. Bandito rossonero vi ha portato qui, iscrivetevi al canale, ciao, ciao, ciao.